Ciao, ciao, stai aspettando la dottoressa Tuskin? È molto gentile, vero? Perchè vieni qui? Solistica. Che cosa vuol dire? Ma io sono malata, non so parlare. Ma ora stai parlando? Altro che io ti ho sentita. Vuoi sentirmi? Certo. Perché? Vieni qui anche tu. Sono stata invasata da un demonio. Oh, sta tranquilla, sono innocua ora. La dottoressa vuole che Sandra segua il corso di terapia fonetica del giovedì. Ehi, mamma. Sai, sai, lei che cosa ha avuto? Chiama Ginni. Si sente male? Ma, ma, hai, hai visto? Che cosa c'è? Regan l'ha fatta parlare. Cosa? La porta subito a casa. Suo padre deve sentirla prima che ricomincia a palpettare. No, signora, non ricomincerà, non lo dica neanche. No. Non ricominciare, bambina. Su, la porta a casa. Liz, accompagnala tu. Andiamo, amore. Andiamo. Che cosa hai fatto? Niente. Ho cominciato a parlarle. Lei parlava solo dentro di sé. E tutto un tratto le è uscita la voce. Perché? Lei crede che io l'abbia spaventata o costretta? Beh, vedi, Regan, è molto pericoloso trattare con soggetti che non sono normali. Insomma, Sandra, sembra essere guarita, ma ti prego, non fare altri tentativi del genere. Almeno fino a che... Fino a quando? Beh, finché non sei più grande. Ok. Ah, ecco Sharon. Io vado. Oh, non dica niente a Sharon, se non lo dici subito a mia madre. Ok?